...dell'Europa, il professor Piga e tutti i loro promotori sono in posizione diversa, cioè sono in posizione che non mette in discussione la comunità unica, però io credo che sia fondamentale, al di là di questa differenza, che certamente viene da poco, trovarsi insieme per fare la battaglia. Buonasera, riguarda i venti, formi di... ...fomiti.net, vorrei chiedere assolutamente al professor Piga che punto si è decola la vota delle firme e all'opera del peggio, all'opera delle manno, se l'assenza oggi di Guido Cosetto e Giorgio Meloni difette in senso una dinamica, un dibattito politico, come detto, grazie. Vado io sulle firme, la dinamica delle firme è molto buona, non nascondiamoci che l'operato della CGL è stato fondamentale, in questo senso è ovvio che il mese di agosto è sempre un mese terrificante, ma ricordiamoci che agosto tanta gente continua a lavorare per il paese, nelle imprese, nelle industrie, quindi saremo lì anche agosto.